tutti noi siamo appena usciti dall'inaugurazione del nuovo salone di emiliano ovvero il nostro tatuatore e indovinate un po che cazzo ho fatto oggi mi sono fatta il piercing all'ombelico quindi adesso vi lascio il video un bel respiro, butta fuori ok? si fate il male prima? si ma quello è un bifo? non certo ma Stefania è scesa in c***a ok, com'è andata? bene, mi fa meglio guarda gli addominali, sta proprio in mezzo all'addominali guarda gli addominali quando indurisci madonna che bianzo, sta proprio così ce lo devo pensare, ansia e cose vabbè, ma non sta proprio no, se sapranno quello che ti fa ma c'è che c'è zitta un po' che sta chiamata giusto papà, giusto le capi grazie 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 ciao vedi, quando tu non ti segui da una parte di casa si grazie 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 a tutti